E tu l'hai mai mangiata una pizza patata King Kong? Una pizza dagli ingredienti semplici ma con una preparazione degna di nota Presta attenzione perché diventerà la tua pizza preferita Iniziamo da delle patate sablé aromatizzate alla menta Una prima cottura a bassa temperatura Nellate col burro aromatizzato alla menta Pioggia di pan grattato e poi via in forno Appena pronte le posizioniamo sulla pizza sotto la mozzarella Ci aggiungiamo una pasta di salsiccia di altissima qualità Dritte in forno e appena pronta Una pioggia di petali di mozzarella di bufala campana E scaglie di grana padano Per finire menta fresca L'unico modo per gustarla è andare da Pizzeria da Mauro a San Donato di Piave Beh a fioi